Duro colpo delle forze di polizia alla mafia pugliese, decapitata nell'operazione antimafia denominata Ares, la criminalità organizzata di Sansevero è spezzata le sue ramificazioni nelle altre città d'Italia ed anche in tre province abruzzesi, Chieti, Pescara e Teramo. Sono 50 gli arresti messi a segno dall'alba di questa mattina su richiesta della procura distrettuale antimafia di Bari. I soggetti coinvolti sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio aggravati dalle finalità mafiose. Il Tribunale in particolare accogliendo l'impianto accusatorio formulato dai magistrati della D.D.A. Barese ha emesso un'ordinanza cautelare a carico tra gli altri di esponenti di primo piano delle famiglie mafiose La Piccirella e Nardino, egemoni nel territorio di Sansevero, di cui sono stati ricostruiti organigrammi ed interessi criminali. È la prima volta che viene contestata l'associazione di tipo mafioso alla criminalità organizzata sanseverese, riconosciuta come autonoma ed indipendente rispetto alle organizzazioni mafiose operanti a Foggia. L'inchiesta ha evidenziato il ruolo egemonico dei clan di Sansevero documentando il fiorente traffico di sostanze stupefacenti gestito dai stradalizi criminali anche fuori regione, nonché i relativi canali di approvvigionamento estero tra cui l'Olanda.